ciao ciao a tutti vediamo se si sente si dovrebbe sentire tutto voglio provare le mie airpods quindi che ho appena comprato e quindi voglio vedere se funziona intanto ditemi intanto se si sente bene faccio questo esperimento stasera e poi volevo parlarvi di face fast che mi raccomando ricordate segna save the date il 15 maggio non come ieri sera che ho sbagliato a dirlo il 15 maggio esce in tutte le sale cinematografiche ma soprattutto sulla mia pagina facebook non so chi si è connesso ditemi se si sente per favore ok quando si sente fate un cenno io intanto vado a guardare come diritto nella pagina se tutto a posto credo ascio che sim come si dice in portoghese e intanto cominciamo a parlare perché devo provare gli airpods voglio vedere se si sentono fatemi un cenno web ciao 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 lulù ciao ok benissimo bene ragazzi quindi allora come si fa una grana con i social e principalmente ci sono come luce ok che figo però farle anche così è bello bello se mi piace intanto pacciocco intanto che voi arrivate ok allora ragazzi non mi piace che è un po scuro però vediamo un po se qua è meglio ok ragazzi allora come si fa la grana con i social la prima cosa che dobbiamo fare ovviamente è avere un'idea ci siete dopo che abbiamo avuto l'idea ne abbiamo parlato abbastanza di questa idea cerchiamo di considerare il fatto che a un certo punto dovremmo sponsorizzare le nostre ads le ads cosa ci servono fondamentalmente ci servono per andare a lavorare sul nostro format educativo ovvero tu non puoi fare un ads e sperare di vendere così o come molto spesso vedo fare invece dei video su facebook che non c'entrano un cazzo non c'entrano un cazzo significa che tu parli 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 di un concetto ma poi non vendi niente alla fine quindi in realtà il social selling ha uno scopo ben preciso che è quello di vendere un qualcosa ok si vende si vende questo video che io sto facendo con te è per venderti sicuramente qualcosa e per educarti ovviamente all'acquisto dei miei prodotti servizi per educarti alla differenza che fanno rispetto a quelli che puoi trovare dei miei concorrenti e questa è la stessa cosa che io faccio con te lo devi fare tu quindi il concetto che prima o poi per raggiungere un certo pubblico devi metterci un po di dindi e fare le inserzioni le inserzioni servono per raggiungere il tuo potenziale pubblico target e soprattutto per mostrare la tua idea a queste persone e molto spesso il concetto di sponsorizzare viene confuso ma in realtà sponsorizzare serve proprio a questo è per raggiungere persone ovviamente devono essere persone in target e il tuo prodotto servizio si deve rivolgere a un target specifico deve andare a risolvere un problema specifico persone specifiche quindi questo è abbiamo visto per chi ha fatto il corso con me di le ads non servono a un razzo che è il mio estro di creare i nomi è bellissimo in quel corso abbiamo parlato della strategia ovvero del funnel educativo di come creare appunto il format e di come portarlo al pubblico abbiamo visto i casi studio e quel corso è stato molto bello infatti è stato comprato tantissimo non mi aspettavo un successo così grande chiaramente era un corso legato alla strategia quindi non ti insegnavo devi fare questo devi fare quest'altro ma ti spiegavo la strategia fondamentale che tu devi avere nella capa prima di fare inserzioni quindi come ti devi come ti devi porre ok adesso abbiamo lanciato face fast face fast che adesso ve lo metto qui è il corso invece tecnico con face fast andremo a vedere come tecnicamente devi andare a mettere le mani sulle inserzioni tutto un corso facebook che in realtà io li ho anche fatti e tanti di voi li hanno anche comprati i miei corsi facebook sono molto tecnici e la mia idea una volta era ti faccio un corso completo di facebook te lo faccio pagare bei soldi almeno 300 euro e su questa base tu hai tutto quello che ti serve no il problema qual è che la maggior parte delle persone non applicava perché perché c'era troppa troppa roba io ho spiegato tutto anche le cose che non servivano perché la mia idea era di prendere tutti i corsi facebook che c'erano in circolazione e farne uno migliore quindi più completo degli altri il corso completo più bello ok infatti è stato un corso che è andato molto bene ora facebook non è un evergreen nel senso che facebook si rinnova ogni due ore in sostanza se ne sto parlando probabilmente sta cambiando di nuovo quindi puntare tutto un business su facebook su un corso facebook completo non conviene proprio non conviene dal proprio punto di vista strategico comunicativo conviene più strutturare le cose come un evergreen e soprattutto non mi conviene fare un corso che è completo come ho fatto prima cioè con tutto dentro perché tanto sono veramente l'un per cento le persone interessate a tutto le persone in realtà cosa vogliono realmente ma questo di questo me ne sono accorto dopo vogliono sinceramente sapere fai a b e c cioè le cose che faccio io per ottenere risultati non sapere tutto perché tutto significa studiare troppo tanto tempo studiare non ottenere risultati allora cosa ho deciso di fare ho creato face fast face fast è il succo del facebook marketing delle inserzioni cioè ovvero quello che ti serve per ottenere subito risultati quindi tecnicamente fai questo installa questo fai quest'altro fai così fai cosa molto molto intuitivo ho voluto fare semplice e andando soprattutto a togliere tutte le cose che non servono intanto vi metto il link e lo fisso in alto ok peccato che non vedo i commenti non so come si faccia non so usare questo non voglio schiacciare fine perché probabilmente mi fa finire la diretta non so far comparire ciao simona non so far comparire i commenti sono veramente un tonto col telefono però li vedo ovviamente li vedo da qua quindi ragazzi il concetto è questo bisogna creare inserzioni ma farlo in un modo semplice in realtà non c'è tanto da sapere c'è da sapere quanto tu investi che tipo di attività hai e come arrivare al tuo pubblico target in più ci sono delle opzioni cioè fai un tipo di campagna per arrivare a questo scopo un tipo di campagna per questo insomma molto semplice sono veramente 5 passaggi che ti spiegano perfettamente come andare a fare l'insenzione alla fine sono le operazioni che io faccio nella maggior parte della giornata mi spiego meglio ci sono dei tecnicismi che vanno oltre ok ma quello quando investi un dot di budget quando fai il geranto di soldi cioè tu investi 10 15 20 50 mila euro al mese in inserzioni ragazzi non ti serve questo corso perché perché lì bisogna andare a ragionare su tecnicismi diversi invece face fast ti dice ok tu su che range ti basi su questo perfetto fai questo tipo di attività sul territorio nazionale perfetto fai questa inserzione mettilo in questa strategia metti questo budget molto semplice che poi è il 90 per cento delle operazioni che faccio realmente io tutti i giorni anche per i miei clienti quindi a questo giro ciao tiziano ti iscrivi e te credo sei già iscritto da moto a questo giro ho creato appunto questo tipo di prodotto che secondo me andrà molto bene perché è un prodotto semplice che permetterà a tutti di creare inserzioni io niente non riesco a far venire i commenti ragazzi sono un tonto non schiaccio il tasto fine perché probabilmente mi mi toglie ah ce l'ho fatta perfetto ce l'ho fatta e ok mettete un po di like ragazzi vi insegnerò a fare anche questa cosa quando nel corso face fast ovvero chiedete i like mettete like ragazzi non fate i tirchi i like sono gratuiti ma soprattutto pompano la pagina ok quando fate dirette è buono avere persone che condividono il video voi non lo condividete perché siete tirchi avete paura che i vostri concorrenti mi scoprano e vi distruggano ma fate bene ma soprattutto ogni like che date facebook mi dà dei soldi quindi oggi mi guardatecelo proprio qua mi sono arrivati i soldi delle ultime dei ultimi like che mi avete messo non è vero ragazzi non è vero che si guadagna like però lo dico sempre perché le persone ci credono marco ma tu che cazzo di lavoro fai che fai sempre video ragazzi sapete cosa faccio io faccio ho trovato un accordo con facebook e tutte le volte che le persone mettono un like io prendo un euro quindi mi conviene cercare di sempre di fare ah ma veramente funziona così eh sì ragazzi in realtà però non ditelo troppo in giro perché se io ho l'account gold di facebook è bellissimo ragazzi divertentissimo comunque ragazzi ecco a cosa serve fondamentalmente face fast face fast sarà un corso che semplicemente i 5 passi ti spiega come fare le inserzioni che funzionano e sono è la strategia che utilizzo io perché facendo inserzioni tutti i giorni anche per i miei clienti oppure insegnando sempre la stessa cosa ai miei clienti comunque io sono specializzato in social advertising social media advertising quello faccio dalla mattina alla sera quindi le persone che vengono a fare consulenza con me facciamo consulenza di questo tra l'altro oggi ne ho fatta una bellissima e poi dopo vi metto la videotestimonianza un ragazzo bravissimo si chiama nicola fa una cosa molto bella in realtà lui insegna difesa personale un personal trainer si è specializzato nella difesa personale femminile ma fa una cosa bellissima che non fa nessuno e lui insegna anche la prevenzione dell'aggressione a livello psicologico quindi non solo aggressioni fisiche ma proprio parla di come smorzare per dire del bullismo del mobbing sul lavoro come insegnare ai figli proprio bello mi è piaciuto fare questa consulenza sto ragazzo è molto bravo una vita vissuta dura che non gli ha regalato un cazzo di niente di nessuno è arrivato con un computer alto così cioè un portatile che era spesso così ragazzi se fa lui le cose porca miseria non mi venite a dire voi che che non le potete fare anche perché lo sapete che le mie consulenze costicchiano però lui deciso è arrivato abbiamo fatto un lavoro bellissimo dopo vi mando la metto la testimonianza sul mio profilo sulla pagina così ve l'andate a sentire però bello bravo di fatti lui ha implementato il suo lavoro da personal trainer con un lavoro sui social che poi presto vi lancerò perché è molto bello comunque si chiama donna donna sicura ed è un bello mi ha fatto veramente piacere fare questo questo lavoro con lui oggi ho fatto proprio volentieri perché è un bel messaggio una bella missione un bel lavoro ed è bello fare anche queste cose e ovviamente anche lì poi bisognerà gli ho dovuto spiegare come fare le inserzioni perché comunque ecco questo qua è un altro esempio questo ragazzo ha fatto è andato da guru contro guru ha speso migliaia di euro in accademie per fare corsi e poi è arrivato come tutti i miei clienti è arrivato da me marco io c'ho una confusione in testa con questi corsi non capisco un cazzo tutti questi mi dico questo mi dico allora io mi metto lì calma poca teoria pratica fai questo 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 quest'altro me lo fai per questo giorno e fai in questo modo non cambiare niente fai così ho scoperto anzi mi sono specializzato in questo perché negli ultimi anni sto facendo solo così cioè questo questo quest'altro senza stare lì a fare le menate cercando di vendere ulteriori consulenze quindi ragazzi questo corso sarà molto bello molti di voi sono già iscritti chi non fosse iscritto approfittate andate su marco doria.com slash lancio meno face fast trovate ancora l'offerta perché poi questo corso lo metterò nell'academy l'academy costa mille euro quindi adesso ve lo potete frecare a una promo incredibile tirchiacci andate a comprare face fast se l'avete già preso ricompratelo perché male non vi fa ragazzi cioè pariamoci chiaro vi fa male secondo voi avere due corsi di marco doria assolutamente no quindi bonificate in questo caso strisciate la carta starete meglio vincerete l'insonnia godrete di una vita più lunga più facoltosa avrete donne uomini semi uomini semi donne tutto quello che vorrete lo avrete lo avrete soltanto comprando questo corso fatto un po' baffo oggi lo sapete che se non faccio Roberto Crema non siete contenti detto questo ragazzi è importante rimanere nella formazione non lo dico perché vendo corsi però vi dico la verità statisticamente è proprio dimostrato da tutte le parti che le persone che si interessano a questi argomenti sono più sul pezzo degli altri non c'è niente da fare e per voi è un motivo di vanto essere informati poiché in questo motivo ciao Repo voi sarete sempre sul pezzo più sul pezzo dei vostri concorrenti la formazione è importante oltre che per arrivare a livello tecnico superiore ovviamente seguendo le persone giuste quindi io no sono una persona sbagliata oltre a seguire le persone giuste e darvi cose giuste da fare vi fa stare sul pezzo cioè questa è una cosa importantissima io me ne accorgo lavorando nella formazione in realtà all'inizio io non avrei mai creduto di fare di fare questo questo mestiere perché vedevo la formazione come una cosa molto accademica scolastica e io non ho avuto un buon rapporto con la scuola mai invece devo dire che poi avendo scoperto che poi le persone che frequentavano i corsi io ho iniziato a fare corsi di formazione nel 2005 a Torino ed ero sono diventato presto un formatore perché in questa scuola ho avuto la possibilità di lavorarci subito facevo i miei primi corsi e poi andavo a fare i corsi un po' in giro nelle aziende come consulente sempre formatore però vedevo ho sempre visto che le persone che si interessano a questi argomenti sono sul pezzo sono sul pezzo purtroppo oggi gira tanta merda digitale la merda digitale è un problema ma comunque nel vostro lavoro chi è che non ha la merda intorno? parliamoci chiaro c'è anche al ristorante se io facessi il ristoratore avrei un sacco di merda di concorrenza in giro non so nel vostro lavoro avete merda voi non parlate più non parlate di merda sapete che parlare di merda poi quasi diventa un obbligo quando si segue le mie dirette a un certo punto si è lì a parlare di cacca sono un uomo e giustamente i discorsi quelli sono scherzi a parte ragazzi comunque si la merda digitale esiste non possiamo farci niente l'unica cosa che mi fa arrabbiare quando ci sono persone che si approfittano degli altri questo mi fa arrabbiare veramente perché va bene vendere sono d'accordo ma vendere quando serve non spolpare i soldi io ho visto con i miei occhi un sacco fare un sacco di vendita a persone che praticamente gli sono stati strappati i soldi è per quello che ci sono delle situazioni in una formazione che non mi piacciono perché gente che se ne è approfittata soprattutto sti mega convegni dove fanno cose troppo motivazionali lì bisogna fare attenzione perché proprio un attimo il rischio di rimanere fregati però la formazione quando è tecnica ovvero che ti insegno a fare un qualcosa non è mai sbagliata probabilmente è sbagliato forse chi insegna però lì non è un errore si compra e poi se non va bene si cerca un'altra persona è però utile avere un mentore che ti spiega e che ti sta dietro nel successo del tuo mestiere nel tuo lavoro io non sono un mentore ma sono una mentina ragazzi ricordatevi questo Tiziano dice io ho comprato un water grant apposito per metterci tutta la merda e cazzo però Tiziano fai attenzione perché poi dopo anche il cesso grosso finisce e quindi poi ti sborda fuori ti tocca fare tutto un lavoro di cleaning che insomma non stiamo lì a parlare ok vorremmo poi fare un sondaggio ma in realtà vabbè tanto posso farvi la domanda adesso poi se avete voglia scrivetemi scrivetemi la risposta voi quali sono i qual è la vostra difficoltà più grossa quando fate ads qual è cioè un po' l'ho visto nei nelle nelle sondaggi nei sondaggi che ho già fatto ne abbiamo già parlato di sta cosa e io lo so ma voi avete nello specifico un problema che non riuscite a capire bene cosa fare in una determinata cosa in un determinato concetto un determinato motivo io sono quasi certo al 100% che il corso praticamente l'ho già tirato è già pronto e di averci messo tutto però è sempre come di dito meglio chiedere se poi mi esce qualcos'altro lo aggiungo a parte che tanto siamo in webinar quindi in quel momento mi potete chiedere tutto quello che volete però se vi viene in mente qualcosa scrivetelo intanto la data è il 15 maggio ore 21 che è un martedì sera tutti pronti tutti belli carichi faccio ads ma non con strategia questo non mi piace male malissimo comunque sì vedrai che questo in abbinata le ads non servono un razzo perché anche face fast ha una parte strategica perché ovviamente chi non ha preso l'altro corso un minimo deve capire ed è una bella abbinata secondo me quindi tanto tu sei a posto non devi comprare non devi neanche vendere vedrai però che a sto giro oggi guarda è arrivato sto ragazzo dopo vedrete la testimonianza e a un certo punto mi guarda e mi fa cazzo che bello e io gli ho proprio detto cosa fare mi fa che bello è stato bellissimo Nicola questo ragazzo poi è molto spontaneo sincero ma mi ha fatto è stato bello mi ha fatto tenerezza che bello comunque ragazzi va bene cosa fate voi stasera io non lo so quasi quasi mi faccio un sushi adesso vedo e poi domani ho di nuovo consulenza tutto il giorno con un cliente la dura vita dell'online market dici no voi non fate un cazzo 4 ore alla settimana vaffanculo a Timothy Ferry quel libro maledetto di 4 hour weeks non è vero un cazzo ragazzi qua bisogna lavorare veramente altro che 4 ore alla settimana che cazzo fai 4 ore alla settimana 4 ore alla settimana dormi se fai le cose come si devono essere fatte altro che 4 ore alla settimana si vivi sull'amaca in spiaggia e badagni in automatico ma vaffanculo va vabbè non mi fate salire il razzo comunque ragazzi non sto spingendo tanto oh angelo la mia difficoltà è capire con quale ads partire traffico interazioni o conversioni è differente partire con una di queste anziché con un'altra in termini di algoritmo facebook mi spiego bisogna allenarlo prima l'algoritmo affinché questo riesca a pescare meglio la gente che converta buona domanda una delle più belle domande che mi è stato fatto allora angelo te la spiego proprio semplicemente sì l'algoritmo va pompato va allenato quello che io sto facendo in questo momento con te è allenare l'algoritmo ok praticamente io devo avere un quality score alto per avere maggiore copertura maggiore copertura organica significa interazione avere maggiore copertura in generale anche con le inserzioni e soprattutto se riesco a far vedere che ho interazione è meglio ancora facebook vuole vedere che le persone ti seguono ti seguono per tempo quindi vuol dire che sono interessate a quello che dici interagiscono prima era solo seguire adesso è anche interagire ok quindi sì spiegherò bene questa cosa nel corso te lo sei accattato il corso ci sei al webinar del 15 angelo perché non ho in mente i partecipanti e sì comunque te lo spiegherò benissimo cioè il corso si basa proprio su questo cioè tu capirai la perfezione come devi andare a mettere una sull'altra queste cose che mi hai chiesto e per risponderti e darti un qualcosa sì 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 perfettamente proprio giusto bisogna pompare l'algoritmo come non hai fatto ancora nessun acquisto mannaggia te c'è il link qua sopra prenditelo perché poi dopo lo metterò nell'academy e l'academy costa 1000 euro quindi in questi corsi che sto facendo adesso poi faranno parte dell'academy quindi conviene prendertelo adesso però sì c'è un metodo c'è un metodo e c'è una strategia ben precisa ok che è un evergreen non è non mi voglio basare sul dirti questa schermata è il business manager e poi aggiornartelo ogni settimana in realtà io ti spiego come lavora oggi l'algoritmo e quindi anche se la schermata un giorno cambia comunque le operazioni da fare conversioni piuttosto che traffico piuttosto che interazioni quelle sono ma tutto questo è legato al fatto che tu devi far funzionare devi far pompare la tua pagina con l'algoritmo se no non funziona niente è la stessa cosa che ne parlavo oggi con sto ragazzo lui è arrivato mi fa ok Marco inserzione cosa faccio alt fermati inserzione dopo prima dobbiamo far vedere a facebook come ruzza la pagina queste tecniche adesso angelo tu di cosa ti occupi dimmelo così ti aiuto meglio queste tecniche ovviamente vanno suddivise in ok ho un lavoro nel local marketing oppure attenzione lavoro su territorio italiano lavoro in territorio europeo tutto il mondo vendo in tutto il mondo quindi le cose lì vanno gestite in maniera diversa la grossa differenza facebook la fa sul pubblico il pubblico è quella cosa che facebook prende in considerazione quando vede la tua inserzione cioè va a vedere che pubblico è se hai un pubblico piccolo ragiona in un modo se hai un pubblico grande medio ragiona in un altro e se hai un pubblico gigante ragiona in un altro ancora quindi di conseguenza gli inserzionisti sanno come lavorare in base alla numerica del pubblico questa è una cosa importante ti sembra un concetto forse avanzato ma guarda in face fast lo trovi spiegato benissimo numericamente c'hai un pubblico così fai questo non ti sto a spiegare troppo ok ti dico fai così cioè io voglio ridurre la teoria al minimo indispensabile è buttare pratica perché il limite della formazione è che alla fine si finisce per per fare mucchio per fare parole per fare massa del buttare dentro tutta roba che non serve a un cazzo invece noi dobbiamo fare come lo scultore togliamo quello che non serve a niente teniamo quello che ci fa fare qualcosa di efficace ok se mi dici che di cosa ti occupi angelo ti ti dico bene ti do qualche dritta in più e comunque quello è di fatto le persone si perdono in cose semplici ovvero cosa devo fare Marco traffico interazione c'è un sistema queste cose qua devono essere fatte in un certo modo in un certo uno per il tuo obiettivo ma due proprio per il tuo pubblico cioè questa è una cosa ragazzi fatevi tutti i corsi facebook che volete nessuno vi dice quello che vi sto dicendo adesso vi sfido vi regalo il corso se mi dice qualcuno mi dite qualcuno che l'ha detto non c'è perché non bisogna ragionare su io ho fatto il stesso errore in passato ho fatto un corso che ti diceva come funziona completamente facebook tutto il business manager punto per punto questo questo quest'altro quest'altro e ragazzi in realtà a voi non serve sta roba non vi sa a voi voi cosa perché mi ascoltate perché vi interessate al social selling che è la materia di cui parlo io perché vi interessate perché volete fare grana perché con la grana vi ci comprate la libertà di tempo vi ci comprate quello che vi interessa no? la grana ragazzi parliamoci chiaro grana cash soldi ok? io non posso riempirvi la testa di merda vi devo dire le cose come stanno e dirvi le cose semplici che funzionano anche se questo ne grava sulla mia cosa ecco perché io vendo a prezzo più alto degli altri perché ti dico le cose che funzionano e basta cioè non mi interessa tenerti nella ruota della formazione non mi frega seguiti i miei video compra e compra cose che funzionano questo è il mio concetto fondamentale ecco perché sono un formatore apparentemente diverso dagli altri cioè faccio questo ho risultati in termini di testimonianze positive quindi funziona lo faccio da una vita e boh ragazzi questo è Facebook non è impossibile Facebook è complicato è complesso ma se ti dico cosa devi fare è come quando gli infermieri sanno fare le operazioni meglio dei medici è chiaro che non le possono fare loro e sarebbe sbagliato farle però talmente hanno visto l'operazione fatta schematicamente che quando devono assistere il medico sanno meglio di loro cosa devono fare passano neanche pensano già perché a un certo punto è ripetizione è schematica quindi io cosa ho preso ho preso questi schemi che io utilizzo e li ho riportati in maniera semplice ok fai questo che sono praticamente le simulazioni di quello che io faccio tutti i giorni facendo inserzioni ok ragazzi tra l'altro ragazzi oggi ho ricevuto una bella minaccia di renuncia era tanto che non ne ricevevo una e parlavo con un altro amico che lui mi ha detto no sei ancora fortunato a me l'altro ieri ho ricevuto una minaccia di morte mi ha detto guarda io ho ricevuto di tutto minacce di morte sì ho ricevuto anche dei genitali in privato gente maschile che mi probabilmente si diverte ma ogni tanto metto gli screenshot l'altro giorno una mi mi voleva insisteva che voleva sapere se suonassi o cantassi e vabbè la vita online va bene ragazzi allora io vi saluto vi invito a partecipare al webinar non sto facendo un lancio pesante nelle mail ho spiegato perché se non siete iscritti alla mia mailing list andate su marcodoria.com e scaricatevi in materiale gratuito entrate nella mailing list perché lì mando altre cose ho fatto un esempio di lancio soft questo è un lancio soft non mi interessa adesso monetizzarlo troppo perché questo corso poi andrà nell'accademy mi interessa che ci sia un nucleo di persone che lo possono vedere mi lasciano la testimonianza e poi questo finirà nella mia academy è un lancio adesso sto facendo un lavoro ascensionale ma dopo diventerà come vi ho spiegato ieri nella diretta di ieri discensionale ovvero parto dall'i-ticket e poi soltanto le persone che sono nella mia academy avranno la possibilità di comprare lo ticket scelta di mercato che mi leva dalle scatole tutti quelli che non sono in target fondamentalmente è quello che dovreste fare voi la squalifica è la cosa più importante non tenetevi dentro casa persone lead clienti che non comprano che non sono in target fuori dal cazzo il prima possibile subito sapete quello è uno dei grossi errori che fanno le persone quando lavorano online è quello di fare le docce fredde questo è un concetto che spiego molto bene non dovete fare docce fredde ai vostri clienti la doccia fredda cos'è? tu che fai un evento gratuito fai un webinar fai una una presentazione e non vendi niente arriva un certo punto che tu non sei lì per la madonna di ripalta ovviamente sei là per vendere quando poi vai a vendere le persone si prendono una doccia gelata e si incazzano e si incazzano come delle bestie provate a vedere il lavoro di Marco Montemagno Marco Montemagno è stato bravissimo a creare a investire perché avrà tirato fuori 4-500 mila euro per creare questo personaggio è stato molto bravo ha fatto un lavoro massacrante di contenuti cioè bellissimo è inarrivabile oggi Montemagno nessuno ci può arrivare cioè dovresti cominciare adesso e produrre più di lui lui è una macchina che produce contenuti il problema qual è che lui non essendosi concentrato su niente parlando in maniera generica costruendo una community di persone che lo ascoltano per quello che è non perché gli venderà un qualcosa quando li prova a vendere ha proprio delle reazioni molto brutte è chiaro che su 3 milioni di persone